questo terremoto ha creato un vero casino dobbiamo agire in fretta ottimo lavoro Bullens, sei stato veloce preparati Joe, sto trasportando un paziente ragazzi, dobbiamo aiutare Bob cos'è successo Katie? stavo consegnando del cibo al cantiere quando c'è stato il terremoto e Bob è rimasto intrappolato in cima a un edificio non preoccuparti amica, chiamerò i rinforzi Joe, stai bene? il terremoto è stato molto forte Johnny, abbiamo bisogno del tuo aiuto Bob è intrappolato nel cantiere e potrebbe essere ferito ma io non posso andare, devo occuparmi dei miei pazienti non dire altro, manderò la squadra di soccorso grazie Johnny, Bullens ti aspetterà lì ciao Johnny ragazzi, ho una nuova missione andate al cantiere e aiutate Bullens a salvare Bob molto bene capo, siamo pronti Johnny ciao ragazzi e grazie per essere venuti ciao a te Bullens, dici che succede? Bob è bloccato all'ultimo piano del cantiere e credo che ci sia fatto male a una gamba potete aiutarlo a scendere da lì? lascia fare a me, ci penserò io prendi la scala Bob va bene scendi con cautela oh cavolo no ti ho preso stai bene Bob? beh, ho avuto giorni migliori, ma grazie ragazzi beh, credo proprio che abbiamo finito qui cosa? va bene, Joe che lo dico io ragazzi, abbiamo un altro problema sembra che Rino Trucks sia stato colpito alla testa durante il terremoto è senza controllo adesso sta creando scompiglio al municipio porto Bob all'ospedale occupatevi di Rino, per favore ecco chi mi tocca per aver parlato troppo presto su, forza fermiamolo prima che trasformi tutto in polvere è... troppo... veloce non lo prenderemo mai in questo modo, devo chiedere aiuto Johnny, dobbiamo fermare Rino Trucks e portarlo in ospedale non riesco a raggiungerlo, devo essere più veloce e più forte bene, Tigers, preparatevi a un potenziamento sì, ora sì che si ragiona mi dispiace amico non mi hai dato scelta vediamo se ora corri altrettanto velocemente ok, ammetto che non ci ho pensato così bene pazza, fermati adesso wow, ben fatto, Tigers già, proprio non male, vero? e adesso portiamo di dritto all'ospedale, ragazzone grazie ragazzi, siete stati grandiosi oggi non dirlo nemmeno, Joe felicissimi di aiutarti siete pronti a partire, ragazzi? wow, quei lecca-lecca sembrano fantastici non preoccupatevi, amici miei, vi copro io mi sa che dovremo aiutare la dottoressa più spesso non preoccuparti, Johnny la scorciatoia che ho preso porterà il carattino a Katie appena in tempo wow, che razza di caduta, ragazzi sembra che la mia mira sia ancora perfetta gelato rubato è il mio gusto preferito oh no, la parabranca, la parabranca Willifant, che è successo? Vicky mi ha intrappolato con delle grosse pietre e per rubare i gelati? non preoccuparti, manderò qualcuno ad aiutarti ciao, Johnny Bill Dooser, Willifant, è intrappolato nelle rocce del deserto ho bisogno di te ricevuto, sto arrivando Willifant, dove sei? da questa parte aiutami, amico, ti prego eccomi, va bene, ma non muoverti da lì grazie mille, amico ora però dobbiamo andare a recuperare il carrettino di Katie tranquillo, conta su di me, amico dovremmo essere vicini oh no, non ci credo davvero, di nuovo? non posso credere che ci siate cascati due volte, animo perdente Bill Dooser, stai bene? beh, sai, sono un po' intrappolato questa roccia è davvero enorme e blocca la mia pala non riesco a farlo da solo però so che cosa posso fare Willifant, Bill Dooser ti ha liberato? sì, Johnny ma Vicky ci ha intrappolati ancora insieme mi servirà una mano in più capisci che intendo non dire altro attivo il power up molto bene mettiamoci al lavoro forza ora è il tuo turno stiamo arrivando, baby Vicky aspettaci e vedrai eccola lì forza, andiamo la distrago io, tranquillo tu riprendi la posizione, ok? ricevuto, amico salve, Vicky sei qui per un altro motivo, eh? è tutto quello che sai fare? oh, stai fermo, anima scemo beh, basta così ciao, ciao, Vicky non te ne andrai così, anima bambaccio ridammi il mio gelato sì questo è per avermi intrappolato due volte gelato recuperato il mio gusto preferito era l'ultima pietra rimasta, Rino Truck ah, finalmente ora possiamo riposare un po' andiamo oh, oh, oh oh qual è il problema, amico? Bob, siamo rimasti bloccati nelle sabbie mobili ci serve aiuto E' in fretta! Sono Johnny, come posso aiutarvi? Johnny, abbiamo bisogno di aiuto! Rino Trax e io siamo bloccati sulle sabbie mobili! Non preoccupatevi ragazzi, ho la squadra perfetta per questo! Ciao Johnny! Build user, Tracodile! Vabbè Rino Trax, sono nei guai! Dovete andare nel deserto subito! Va bene Johnny, siamo in viaggio! Finalmente, stavo iniziando ad annoiarmi! Guarda Rino, quella è la squadra di soccorso! Siamo saldi! Tenete duro ragazzi! Va bene Trax, qualche piano? Lo so, lo so! Io, te, vado in incognito! L'anima d'aquila che c'è in me farà il resto! Mi tuffo sulle sabbie mobili! Nuoto, le tiro fuori! Che mi dici di questo? Non sembra super fico, Billy? Non è un po' pericoloso? È questo che lo rende fico, amico! Bene, lo terremo come piano B, ok? Ma prima cercherò di tirarli fuori da solo! Ah, va bene! Vai a provare il tuo piano super ultra noioso da solo! Contento? Sedetevi e rilassatevi, amici! Non c'è niente che il toro non possa fare! Afferra le corna, Bob! Le ho prese! Ci siamo! Hai finito, ragazzone? Sono troppo pesanti! Non riesco a tirarli fuori! Non preoccuparti, amico! So io come fare! Ragazzi, buttate via quelle rocce! Avete troppo peso addosso! Lo farò! Vai avanti, Rino! Già fatto! Ben fatto! È stato davvero fantastico, Tracodile! Ottima idea! Forse non sono! Non sono così pazzo dopo tutto, eh! Hai proprio ragione, Traco! Mi spiace tanto per prima! Non preoccuparti, bel ragazzone! So bene che a volte il coccodrillo più presente è un po' pazzo! Sei proprio pazzo, amico! Ma mi hai dato davvero un'ottima idea! Non so se posso farcela, ragazzi! Forza, Bob! Puoi farcela! Ma non voglio lasciarti qui, Rino! Starò bene! Sono sicuro che mi tireranno fuori in un batter d'occhio! Ti ho preso! Sta bene! Non ho nemmeno un graffio! Ben fatto, Billy! È stato davvero forte! Ora prendiamo Rino! Oh no! Rino! Il Dozer non riuscirà a tirarlo fuori in tempo! Serve aiuto! Ehi, Tracodile! Come procede la missione? Non bene, Johnny! Abbiamo Bob, ma Rino Trax sta quasi affondando! Non dire altro, amico mio! È ora del potenziamento! Ah, mi piace questo! Interveniamo subito, ragazzi! Ok, dove posso aggrapparmi a lui? Oh, jackpot! Cosa? Andiamo! Funziona, ragazzi! Funziona! Ce l'avete fatta, ragazzi! Ci avete salvato la vita! Grazie mille, anima team! Siete stati davvero fantastici! È tutto grazie alle mie turbine super pazze! Beh, sapete? Credo che anche Bill Dozer abbia aiutato! Ovviamente come mio incredibile assistente! Divertente amico, ora aiutami ad uscire di qui! Andiamo, Bill Dozer! Sto affondando, amico! Beh, perché non esci da solo con le tue turbine super pazze? Alla fine sono solo un misero assistente, ricordi? E va bene, va bene, hai vinto tu! Ma puoi per favore aiutarmi a uscire di qui? Andiamo, ma dov'è? Sono qui, Nora! Appena in tempo, Rino! Con quelle batterie finirò la mia nuova invenzione! Questo lo vedremo! Oh, malvagia Vicky! Cosa ci fai qui? Non è buffo? Mi serve la stessa batteria per finire il mio raggio ultra distruttivo e tu mi aiuterai ad ottenerla! Rino Trucks, no! Proprio così, prendi la... Sono Johnny, cosa posso fare per te? Johnny, ho bisogno di aiuto! Vicky ha ipnotizzato Rino Trucks per rupare la mia batteria e costruire qualcosa di malvagio! Non preoccuparti, Nora! La mia squadra si occuperà del caso! Ciao, Johnny! Ciao, Johnny! Tigers, Batfly! Vicky sta causando il caos nell'officina meccanica! Dovete fermarla! Certo, Johnny, nessun problema! Chi ne occupiamo noi? Fermati lì, Vicky! Oh, non posso giocare oggi, ragazzi! Ma conosco alcune persone che vorrebbero farlo! Prendeteli, miei serpi! Prendeteli! Ah, mai più animo perdenti! Batfly, vai a cercare Mickey! Io mi occuperò di questi ragazzoni! Ok, Tiger! Datela di avvolgere! Siete pronti, ragazzi? Sono i fiammi! Oh, cavolo! Diamine, c'è mancato poco! Spero che Batfly stia bene! Andiamo! Dove potrebbe essere? Eccola! Ma non devi arrivare alla sua caverna prima che io la raggiunga? Ciao, Batfly! Come sta andando la missione? Ho un problema, Johnny! Dimmi! Ho individuato Vicky, ma non la prenderò se non sarò più veloce! Ho bisogno del tuo aiuto! Certo! Attivo subito il power-up! Yuhu! Mettiamoci al lavoro! Hai davvero superato a te stesso stavolta? Sei un genio! Oh? Che cos'è? Sì! No, 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 no! Oh! 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 Ti è accaduto qualcosa? No! La mia batteria! La mia pistola a raggi! Non preoccuparti, questa la prendo io! Alla prossima volta, Vicky! Pagherai per questo, animo tonta! Vedrai! Grazie, ragazzi! Ora sono in grado di finire la mia invenzione! Ne sono contenta, Nora, ma che ne sarà di loro? Me ne occupo io! Come ti senti, Rhinotrax? Bene! Ma... Ho fatto il sogno più strano di sempre! Ehi!